Ancora ben trovati dalla rotazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Nord. In A11 per viabilità esterna che non riceve in calo a 2 km la coda tra B11 Firenze Nord e Firenze Peretola e restano rallentamenti per traffico tra Pistoia e il Bivio Colla 1, tutto in direzione del capoluogo. In Fipilì code attratti per traffico verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sempre in Fipilì segnaliamo la chiusura dell'entrata di Livorno in direzione Firenze Perlavori. Siamo al traffico ferroviario a seguito di circolazione perturbata dei treni dell'alta velocità nel nodo di Firenze. Il treno 18744 Arezzo-Firenze quest'oggi è limitato a Firenze-Campo di Marte. I viaggiatori possono utilizzare il 92257 Stia-Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.